Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno! Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno! Il 21 scende in piazza contro il DDL Pirroni, che istituzionalizza la violenza domestica e rende praticamente impossibile divorziare, soprattutto per le donne con bassi redditi. Il 21 scendo in piazza per la libera espressione dei generi e per il loro riconoscimento. Il 21 scendo in piazza perché l'unico che può parlare sul mio orientamento sessuale, sulla mia identità di genere e sul mio corpo sono io. Il 21 scendo anche io in piazza perché sono stanco della violenza sulle donne e dei continui femminicidi. Non voglio vivere in un paese così. Il 21 scendo in piazza perché voglio i consultori garantiti laici e non accessibili movimenti pro-life. Il 21 scendo in piazza per i contraccettivi liberi e gratuiti. Il 21 giugno scendo in piazza contro il patriarcato che renega le donne a un ruolo subalterno e subordinato al maschio dominante. Il 21 scendo in piazza perché gli assorbenti sono un bene di prima necessità e non un bene di lusso. Il 21 scendo in piazza perché bella cesarai, noi siamo favolose e le moleste per strada le combattiamo il femminismo. Il 21 scendo in piazza perché voglio che i porti del mio paese siano tutti aperti e che il mondo non abbia più confini. Il 21 scendo in piazza contro la disparità salariale tra uomini e donne. Il 21 scendo in piazza perché non sono donna solo se madre, ma decido io come, quando e con chi fare figli. Il 21 scendo in piazza per i diritti delle donne migranti e contro il decreto sicurezza che mi criminalizza se sono solidale e se mi oppongo ad un governo fascista. Il 21 scendo in piazza che se sia lavorato per i diritti delle donne migranti e contro le Fuol